Mercoledì 16 novembre una delegazione, Antlo, composta da Mauro Marin e Franco Spotto, ha incontrato al Senato la sottosegretaria del MIUR, che è il Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca, la senatrice Donghia. La senatrice è delega dell'alternanza scuola-lavoro e siamo andati a rappresentare una serie di criticità nel rapporto con le scuole odontotecniche. Noi ovviamente crediamo molto nel rapporto scuola-lavoro per qualificare al massimo quanti decidono di intraprendere il nostro lavoro e per favorire quel ricambio generazionale di una categoria che ha un tasso di invecchiamento sicuramente elevato. Proprio per questo noi ospitiamo ogni anno migliaia di studenti nei nostri congressi ed eventi culturali e incrementiamo costantemente i rapporti con le scuole, favorendo anche gli stage degli studenti nei nostri laboratori. La legge sulla buona scuola prevede un incremento dell'alternanza scuola-lavoro. Questo obiettivo però che condividiamo in pieno è reso impossibile da attuare per le micro imprese che siamo noi laboratori, cioè la presenza come sapete di 1,5 soggetti per laboratorio. La sottosegretaria Donghia comunque ha condiviso in pieno le nostre preoccupazioni ritenendo che le norme sull'alternanza scuola-lavoro siano più confacenti a realtà di grande impresa. Alla fine dell'incontro abbiamo convenuto di inviare una nota riassuntiva delle questioni alla sottosegretaria che organizzerà a breve un incontro al Ministero con i responsabili delle strutture ministeriali per rendere possibile un rapporto ANTLO-MIUR al di là dei risultati del referendum del 4 dicembre. Sotto l'aspetto culturale ANTLO è occupato in questo fine mese in due importanti appuntamenti. In Toscana il 25 novembre dove parteciperemo come di consueto ai lavori di Firenze Incontri che porta il titolo dell'odontoiatria del terzo millennio presso il Teatro Tenda di Firenze. Mentre sabato 26 novembre l'ANTLO-Umbria ha organizzato il suo congresso regionale presso il Golf Club di Perugia. I nomi dei relatori sono di tutto rispetto come l'alta qualità dei dei temi trattati. Vi chiedo di continuare a seguire comunque le notizie e tutte le informative su www.antlo.it. Come noto l'Assemblea Nazionale ANTLO a proposito di referendum del 4 dicembre. ANTLO si è riunita a maggio scorso a Rimini e ha deciso all'unanimità di schierarsi a favore del SIA referendum. Qualcuno ha dichiarato che un tale avvenimento ha fatto venire meno le caratteristiche di autonomia dell'Associazione fissate dallo Statuto. Altri invece hanno voluto sottolineare il loro dissenso dichiarando di voler votare no al referendum. Io vorrei semplicemente far notare che ANTRO sin dall'inizio ha seguito il dibattito parlamentare sulle riforme costituzionali come provato dalle news che abbiamo pubblicato sul nostro sito già dal 20 gennaio, il 20 agosto del 2014. Quando l'attenzione di tutti gli altri soggetti del dentale e in particolare delle associazioni odontotecniche era rivolta altrove. Perché ANTRO si è dichiarata d'accordo e ha pubblicizzato questa posizione doverosamente attendendo il voto unanime dell'Assemblea nazionale di maggio scorso? Per due ordini di motivi. Perché con la conferma del referendum alle modifiche approvate dal Parlamento cadendo quel titolo quinto, già modificato nel 2011, cade la cosiddetta legislazione concorrente Stato-Regioni che di fatto è quella che ha impantanato il nostro profilo nelle sabbie mobili della mancata unanimità delle regioni. E poi perché con la vittoria del sì al referendum continuerà l'attuale gestione del Ministero della Salute e quindi avremo ancora un anno e mezzo per portare avanti tutte le nostre istanze e quel manifesto che è stato alla base della manifestazione anche del 15 maggio e che comprende una piattaforma e questioni assolutamente strategiche per il futuro della nostra categoria. E in questo senso vorrei ricordare anche quanto dichiarato dal generale Condò al nostro convegno di fine aprile all'auditorium del Ministero e alla tavola rotonda a Montesilvano ad Anton Meeting. Io desidero sottolineare che nel testo del profilo è ricompreso, oltre al resto, anche un COM che affida all'odonto tecnico l'esclusività della produzione della protesi. Si tratta quindi di questioni strategiche per la nostra categoria e per le quali ci stiamo battendo da anni. Io credo che sul referendum dovremo tornarci a discutere e magari lo faremo anche con una breaking news speciale nei prossimi giorni. Grazie. 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 Grazie.